Tesoro, sei pronta a parlare alla te del futuro? Oppure parlare al mio passato? Catarina, ne abbiamo già parlato! È meglio guardare al futuro che al passato! Prometti alla mamma che parlerai con il tuo futuro! Te lo prometto! Perfetto, allora vai! Voglio proprio vedere cosa ha paura che io scopra! Cosa nascondi, madre? Se sei felice tu lo sai... Ciao, principessa! Aiuto, c'è un'intrusa, aiuto! Calma, sono io! Te dal futuro! Oh, wow, ma siamo bellissime! Tesoro, puoi venire ad aiutarmi un attimo? Ehi, vuoi salutare la mamma? No, ascoltami, deve essere un segreto! Nessuno deve sapere che io sono qua! Sono le regole! Va bene, ho capito! Tesoro, puoi portarmi l'aspirapolvere? La mamma sta pulendo! Le regine non puliscono mai! Le regine? Ma la mamma non è una regina! Non è la regina? Certo che no, è la donna delle pulizie del castello! No! No, non ho ancora finito! Fatemi tornare indietro! Com'è andata? No!